Ciao, vi farò ascoltare quella che è la seconda parte di chi c'è nessuno lì fuori. Praticamente la seconda parte è un po' simile alla prima. Nona, decima, undice, dodicesima battuta. Suono come la prima parte, così. Ve la faccio ascoltare. Ok. Entriamo nella tredicesima, che farà? Colpiremo il Fa, il La, il Do e facciamo La minore. Colpiremo il Mi, lasceremo il secondo mito, Re, La, La, Do. Ok. Questa è la tredicesima battuta. Comincia a cambiare qualcosina da qui. Ve la faccio riascoltare. Ok. Questa è la tredicesima. Ve la faccio riascoltare. Adesso ci aggiungiamo la quattordicesima battuta. Che è così. E ancora Re, La, Do, Mi, Do, La, Basso Do, Basso Si, e entriamo nella quindicesima. Sedicesima. 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 battuta che è la battuta. Che è... E il Mi rimane un po' lungo. Ok. Vi faccio ascoltare lentamente dalla tredicesima alla diciottesima, che è praticamente la seconda parte. Scusate. 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 Grazie.